Siete venuti con spade e bastoni come fosse un brigante. Stavo ogni giorno con voi nel tempio e non mi avete arrestato. Ma questa è la vostra ora per agire. Adesso regna il potere delle tenebre. Portatelo via. Adesso regna il potere delle tenebre. 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 Adesso regna il potere delle tenebre.